Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di MotorbikeDays.it nel quale vedremo insieme come installare il visierino pinlock. Per prima cosa andremo a smontare la visiera del nostro casco. Una volta smontata la visiera il passaggio successivo è pulirla accuratamente. Per fare questa operazione il nostro consiglio è utilizzare un panno in microfibra e semplicemente dell'acqua. È molto importante che la visiera sia molto ben pulita per far aderire correttamente il pinlock. Una volta pulita a fondo la nostra visiera è il momento di predisporre il pinlock per poterlo montare. La prima cosa rimuoviamo la pellicola protettiva e l'operazione che faremo è quella di andare a incastrare nei due pin il nostro visierino. Mi raccomando è molto importante il verso quindi la parte in cui è presente la bordatura in silicone dovrà stare adagiata sulla nostra visiera. L'operazione è la seguente con il gomito facciamo di questo quindi andiamo a aprire la nostra visiera e incastriamo il nostro pillock. Una volta installato il nostro pillock andiamo a fare una lieve pressione su tutta la superficie sempre con un panno in microfibra in modo che aderisca bene alla nostra visiera. Giunti a questo punto non resta che rimontare la visiera sul nostro casco e l'operazione è completata. Grazie a tutti per aver visto questo video vi ricordo che in descrizione è presente il link all'articolo del pillock sul nostro sito. Mi raccomando like al video e iscrivetevi al canale.